Sconosciuti l'altra notte si sono introdotti negli uffici comunali a Casalserugo in provincia di Padova. Sono entrati nella struttura da un ingresso secondario e si sono diretti al luogo dove viene custodita la cassaforte. Con un flessibile l'hanno aperta e rubato il denaro presente all'interno. A scoprire il furto è stato il sindaco che ha allertato i carabinieri. Il caso è seguito dagli uomini dell'arma che stanno vagliando anche i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Solo una settimana fa sconosciuti si erano introdotti in un altro comune in provincia di Padova, quello di Limena. In quel caso erano andati direttamente nell'ufficio del sindaco rubando il suo portafogli.